ben trovato a te chiunque tu sia che mi segui da poco o da tanto nel video di oggi vorrei parlare insieme a te di darti un'idea che secondo me è estremamente importante se vuoi migliorare qualsiasi relazione della tua vita tutti noi abbiamo a che fare con una vita di relazioni appena appena inizia la nostra giornata quasi tutti noi abbiamo a che fare con qualcun altro possono essere persone della nostra famiglia possono essere amici colleghi fornitori clienti persone di cui siamo innamorati amici amiche e tutti noi ci relazioniamo con gli altri costantemente tutto il tempo nella maggior parte delle sessioni di coaching che faccio una consistente quantità di tempo è dedicata ad ascoltare le storie delle persone quando fanno difficoltà con trovano delle difficoltà con altre persone a volte si tratta di una coppia a volte si tratta dei figli a volte si tratta di amici a volte si tratta di un cliente con cui si fa fatica un collaboratore e quindi mi sembra assolutamente ovvio e sotto gli occhi di tutti noi che le relazioni rivestono un'importanza enorme nella nostra vita e negli ultimi anni oltre al fatto che è stato sempre il tema più grande nella mia attività di coaching e anche nel coaching e nei corsi che faccio con alessandro ci siamo resi conto di una di una cosa che riguarda la nostra di vita che oggi voglio condividere con te perché ha fatto un'enorme differenza in come noi abbiamo gestito la nostra relazione e poi di conseguenza tutte le relazioni della nostra vita quindi la prima domanda che ho per te oggi è quella ti invito a riflettere su quali siano i requisiti per stare davvero bene con qualcuno per te e voglio che tu ti prenda qualche secondo se vuoi puoi anche mettere in pausa il video per pensare proprio cosa deve accadere cioè quali sono i requisiti per cui io mi possa sentire bene con qualcuno e quindi puoi mettere in pausa il video e anche se hai carta e penna o il tuo cellulare e vuoi scrivere alcune delle idee che ti vengono in mente ti invito a farlo nel rimettere il video parlante o comunque se stai continuando a guardarlo credo che alcune delle cose che ti siano venute in mente possono essere di due tipi il primo tipo è abbastanza facile pensare che per stare bene con qualcuno spesso pensiamo come l'altro ci deve far sentire non sto parlando di persone che hanno già una comprensione di anni anche nei principi ma sto parlando anche a queste persone ma che tutti noi ad un certo punto abbiamo la sensazione che per stare bene con qualcuno della nostra vita un po il pensiero che abbiamo è se questa persona fosse un po diversa o si comportasse in maniera diversa o queste queste caratteristiche questi requisiti io potrei stare bene con questa persona in qualche modo una delle cose che in maniera totalmente ingenua sapete facciamo è quella di dire ok il requisito per stare bene con qualcuno è che quest'altra persona sia così 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 elencando tutta una serie di caratteristiche che l'altro dovrebbe avere affinché la relazione andasse meglio questa è una delle prime cose che in maniera del tutto a volte spontanea facciamo e lo facciamo tutti sapete a qualche livello lo facciamo tutti e vedremo tra un attimo perché non funziona la seconda cosa che facciamo è quella di pensare a tutta una serie di cose di passioni che abbiamo nella nostra vita quindi un altro dei requisiti che ci viene facile pensare è pensare che l'altra persona dovrebbe essere simile a noi quindi ci piace ballare esempio a caso che faccio della mia vita quindi l'altra persona dovrebbe che sta con me i miei amici eccetera dovrebbero amare ballare mi piace leggere l'altra persona dovrebbe essere un amante della lettura mi piace scrivere o l'arte l'altra persona dovrebbe essere una persona cui piace l'arte eccetera e via dicendo l'alta mi piace l'alta cucina mi piace la degustazione di vini cioè iniziamo a pensare un po alle passioni della nostra vita e l'idea è che uno dei requisiti per stare veramente bene con qualcuno è condividere insieme delle passioni oggi sfateremo entrambi questi miti vedremo un pochino secondo me qual è il granello di verità ma tutto di quello di cui parleremo oggi porterà ad un'unica conclusione verso cui desidero che tu guardi perché perché in qualsiasi relazione della nostra vita quando togliamo tutti i miti le idee collezionate nel tempo e andiamo al fondo al fondo all'essenza alla verità di un principio che sta dietro e che a volte non vediamo perché invisibile ok ecco che la nostra relazione migliora esponenzialmente e non solo magari quella che è in mente in questo momento mentre mi stai ascoltando perché lo so quando si parla di relazioni ci viene sempre in mente una o due persone con cui sarebbe bene che le cose migliorassero ma in realtà oltre a quell'una due persone che ti stanno venendo in mente la cosa meravigliosa e paradossale è che a volte non subito quando tu comprendi qualcosa di nuovo sulle relazioni su come stare meglio con le persone della tua vita non è detto che subito cambi con quella o quelle persone che ti sono venute in mente magari inizia a cambiare con qualcuno con cui non avevi grossi problemi neanche prima ma inizia ad essere diverso o diversa ed ecco che l'essere diverso lì ti in maniera transitiva cioè come proprietà transitiva si espande a macchia d'olio a tutte le altre relazioni della tua vita e questa la trovo una cosa fantastica perché io sono una fan del prendere più piccioni con una fava quindi l'idea è che tu attraverso questo video possa prendere più piccioni con una fava e l'idea non è tanto andare a risolvere quei problemi che hai con quella singola persona ma alzare il tuo livello di comprensione di come funzionano davvero le relazioni quando funzionano e il requisito fondamentale che voglio trasmetterti oggi affinché tutte le tue relazioni possano elevarsi a un nuovo livello andiamo a vedere quindi immediatamente perché il pensare che se l'altro fosse un po' diverso no la relazione migliorerebbe non funziona non è vincente è scadente di per sé come pensiero e purtroppo ti porta tanto tanto fuori strada perché immediatamente pensiamo all'altro e non pensiamo a noi e una relazione come già abbiamo visto in qualche video precedente è una dinamica è fatta dall'interazione di due esseri umani e l'idea che l'altro se l'altro fosse diverso tu potresti stare bene dentro la relazione purtroppo non funziona non funziona mai e non funziona nel lungo termine soprattutto se tu ti trovi anche in una dinamica che funziona poco che funziona male che non ti piace c'è sempre 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 qualcosa che ha a che fare con te ora tu puoi vivere questo come un senso di colpa o di di flagello oppure lo puoi vedere come il fatto di dire che tu fai parte di questa dinamica ed ecco che allora uno dei requisito no dell'altro dovrebbe cambiare puoi iniziare a lasciarlo cadere e tutte le volte che ti trovi a pensare a questa idea è perché questa relazione migliorasse l'altro dovrebbe nota la sensazione che hai di solito sprofondi ed ecco che in quel momento rendersi conto di quello che tu stai facendo nella tua testa può portarti a smettere e vedere che a volte tutto il pensiero che investiamo nel pensare a come l'altro dovrebbe essere diverso è tutto pensiero che non investiamo nell'ascoltare come noi potremo essere diversi e alla fine della fiera l'unica persona su cui tu hai davvero potere nella vita sei tu sugli altri hai influenza quando ti va bene quando ti va bene e in questo mi rivolgo particolarmente a chi è in una posizione di educatore genitori eccetera ma anche capi che vogliono trasferire un una conoscenza no insegnanti di ogni genere cioè noi abbiamo una sfera di influenza ma alla fine dei conti ciò che noi andiamo a seminare o a piovere no a volte noi siamo tutta la categoria per me degli insegnanti è un po come pioggia noi pioviamo no siamo come pioggia dove questa pioggia cadrà chi lo sa ok il nostro compito è continuare ad essere pioggia ma ecco nella sfera di influenza dell'altro non lo sai quando germineranno no questi questi semi che che sono stati che sono già lì e non lo sai se la pioggia tua cadrà nel momento più opportuno magari un po più avanti nel tempo ma ecco tutti noi abbiamo potere di direzionare il nostro sguardo solo il nostro sguardo e attraverso però la nostra decisione di direzionare il nostro sguardo sul mondo la nostra percezione in maniera diversa è inevitabile è inevitabile che qualcosa cambi nelle relazioni della nostra vita è inevitabile una delle cose per esempio banali te la racconto perché è successa ieri ieri pomeriggio dovevo andare a fare una serie di commissioni e sono passata a casa da dai miei genitori da mia mamma mia mamma che se guarderà questo video non sto dicendo nulla di nuovo con cui soprattutto in età adolescente ho avuto un rapporto tanto conflittuale perché fondamentalmente siamo molto diverse ma poi vedremo che il fatto di essere molto diverse non è un reale problema siamo state molto diverse ma la realtà è che nessuna delle due è stata sempre particolarmente in grado di comprendere la realtà dell'altra e quindi abbiamo queste dinamiche che immagino anche tu possa immaginare nella tua vita in cui per esempio è una delle persone con cui a volte senza accorgermi scatto e scatto velocemente e ieri mentre andavo via e abbiamo avuto una discussione veramente inutile sciocca su una cosa che era veramente banale tipo come stendere la biancheria sapete quelle discussioni banali sul niente che poi portano anche tanto malessere sono resa conto di quanto fossi scattata con mia mamma e mentre andavo via dicevo ma porca miseria ma potrei fare qualcosa io di diverso perché mi sono resa conto che nonostante quello che insegniamo Alessandro e Dio nonostante la comprensione dei principi sia una cosa per me fondamentale nella vita ci sono sempre momenti dove sprofondiamo e quando sprofondiamo siamo ciechi ed ecco che allora per me avere una comprensione di come funziona non è che sempre mi mantiene lucida o con chiarezza ma la cosa bella è che più velocemente di quando non comprendevo non avevo questa comprensione della vita ritorno ad avere chiarezza ed ecco che quando mi sono resa conto che per quello che mi riguarda avevo veramente trattato male mia madre senza motivo ho detto oh porca miseria e più che sentirmi in colpa flagellarmi ho preso il telefono chiamato mia madre e le ho detto mamma scusa mi dispiace cioè sono sono scattata e non c'entravi niente perché ho visto che quello che mi ha fatto scattare non era la discussione su come stendere i panni della biancheria era perché dentro di me anche senza accorgermi ingenuamente mi sono arrivati tutta una serie di pensieri che che avevo anche quando ero adolescente tipo dovrebbe capirmi tutte ste robe qua che che sicuramente anche tu hai provato nella vita e il problema qual è stato avere quei pensieri no il problema è stato crederci per un attimo e basta un attimo sai a volte di credere a un pensiero che ci passa per la testa sprofondare reagire ed avere una pessima esperienza di connessione di disconnessione o di conflitto con l'altra persona ed ecco che però la comprensione di quello che so velocemente mi ha fatto vedere che non era mia mamma che aveva sbagliato a dirmi determinate cose non ero neanche io che ho sbagliato a reagire era che ad un certo punto entrambe abbiamo smesso di ascoltare ed ognuno è andato nella sua testa ad ascoltare quel diamine che gli passava per la testa questo è una delle cose che è importante che tu veda tutte le volte che tu pensi che l'altro dovrebbe cambiare e non sto dicendo che l'altro magari sia sempre nel giusto è ti sto dicendo che che l'altro cambio o meno dipenderà solo ed esclusivamente da ciò che vedrà l'altro e non lo puoi decidere tu ma quello che noi si possiamo decidere è dove noi vogliamo direzionare la nostra attenzione la nostro focus ed ecco che guardare che la nostra esperienza anche di reazione estrema a volte con le altre persone dipende da quello che stiamo credendo vero nella nostra testa nei principi nei tre principi quello questo è la comprensione di come funzioniamo quindi del principio pensiero del principio mente del principio coscienza sta alla base della trasformazione alla fine del video ti dirò anche se desideri approfondire quali sono le prossime opportunità vediamo invece che cosa fa cosa accade quando crediamo di che per uno dei requisiti per avere una relazione migliore con le altre persone sia quello di avere delle cose in comune ok tipo ci devono piacere le stesse cose ci devono piacere gli stessi interessi e l'esperienza anche difficile che facciamo quando siamo tanto diversi alessandro io siamo stiamo insieme da 19 anni quest'anno e siamo cambiati tantissimo nel tempo come immagino tutte le persone che mi stanno guardando di lunga data ci siamo trasformati insieme più e più volte nella relazione perché una relazione è dinamica è viva non è che rimani la persona con cui ti sei messo insieme 19 anni fa e nel mentre niente cambia si cambia e a volte si cambia come individui e a volte si cambia come coppia e una delle cose che ci fa ridere ad oggi è quella che quasi sempre se a me piace qualcosa ad alessandro non piace se ad alessandro piace qualcosa a me non piace ma tantissime cose quasi tutto vi direi quando prepariamo i corsi insieme per esempio io ho una visione lui ne ha una opposta quando lavoriamo insieme con due clienti io andrei in una direzione lui andrebbe in un'altra i nostri amici se guarderanno questo video possono confermarvi che se io voglio andare in vacanza in un posto lui vorrà andare in vacanza in un altro e la lista è infinita infinita e una delle frasi più belle che alessandro mi ha detto pochissimo tempo fa ed è quella che mi ha spinto a fare questo video è stata questa è stata sai chiara io e te non andiamo d'accordo non siamo d'accordo quasi su niente anzi quasi praticamente su niente però siamo stiamo in accordo un altro modo per dirlo potrebbe essere non andiamo d'accordo su niente ma siamo ci sentiamo in accordo e per me questa frase contiene il principio base di quello che oggi vorrei trasferirti di qual è il requisito unico per stare davvero bene con qualcuno in una relazione che sia la relazione con la persona che ami di più sulla faccia della terra che sia la relazione con un tuo amico una tua amica il papà la mamma tuo figlio tua sorella tuo fratello il tuo pupillo il tuo mentore chiunque lì fuori sulla faccia della terra il requisito non è che l'altro cambi il requisito non è che siate d'accordo su tutto nella vita gli ideali eccetera il requisito è che sia vi sentiate in accordo e sentirsi in accordo è una conseguenza inevitabile di quando noi iniziamo ad ascoltare l'altro a un livello profondo e ascoltiamo l'altro senza la paura e senza sentirci minacciati dalla sua diversità e ascoltiamo l'altro con la comprensione di quando vediamo che non abbiamo bisogno di amare la stessa serie tv lo stesso vino o la stesso cibo o lo stesso credo religioso per andare più in là per ascoltare profondamente l'altro e quando noi ascoltiamo profondamente l'altro noi ad un certo punto sentiamo una sensazione di accordo che siamo in accordo che siamo due note diverse ma che suonano una musica meravigliosa insieme questa è la sensazione che voglio trasmetterti oggi può essere che tu sia giovane e stai vedendo questo video alcune cose non ti saranno chiare può essere che tu abbia vissuto una lunga vita alcune delle cose che dirò ti suoneranno può essere che tu riveda questo video in fasi diverse della tua vita e ogni volta potresti cogliere qualcosa di diverso sai la comprensione di di qualsiasi cosa nella vita è a strati a livelli l'hai già vissuto se hai praticato qualcosa tanto nella tua vita hai già visto che la maestria per così dire della comprensione di qualsiasi cosa più guardi in una direzione più aumenta nel tempo ed è infinita e ogni volta noi possiamo trovare qualcosa di nuovo che non avevamo visto perché noi ascoltiamo a un livello più profondo quello che viene detto e quello di cui ti sto parlando a prescindere dalle parole migliori che ho usato oggi è una sensazione sai una sensazione di cosa c'è per tutti noi esseri umani oltre la paura della minaccia dell'altro oltre i nostri pensieri spaventati oltre c'è la possibilità di una connessione che è senza parole questo per me è il requisito unico più grande in tutti gli ambiti della vita per avere delle relazioni non migliori straordinarie a tutti voi che vi sentite chiamati da questo per iniziare o per continuare ad esplorare questo una delle opportunità sarà anche il corso benessere in nato che faremo a maggio del 2024 metterò qui sotto le indicazioni ma se guarderete questo video dopo l'idea è continuare a stare in questa comprensione per me che è la comprensione dei principi la comprensione di andare a quel livello in cui c'è dall'altra parte mi auguro che ti sia arrivata una sensazione di ampiezza e che questa lasci lo spazio perché emerga in te il prossimo passo da fare con chiunque sia importante per te in questo momento della tua vita buona settimana buon mese a tutti quanti e ci rivediamo qui sul blog di alessandro e chiara e so che è caricato anche su youtube quindi lo vedrete anche su youtube e se avete qualche argomento che vi sta a cuore e che vorreste che esplora che che alessandro ed io esplorassimo nel blog nei prossimi mesi fatecelo sapere potete inviarci un commento qui sotto su youtube perché sul sito non c'è la possibilità di commentare potete inviarci sempre una mail a info chiocciola alessandro chiara punto it a presto